La competizione elettorale è ormai entrata nel vivo, la presentazione delle liste è avvenuta qualche ora fa, ora c'è bisogno di andare a incontrare tanti cittadini per dargli il messaggio di questa competizione elettorale. Per chi fa anche l'amministratore pubblico ed è impegnato da sempre nel sociale e in politica, le campane elettorali sono come anche una valvola di sfogo di tanta energia. Noi passiamo anni e anni, ormai sono dieci anni che faccio il sindaco, quasi otto mesi ormai che faccio il presidente della provincia, passiamo veramente mesi e anni della nostra vita dietro ai patti di stabilità, ai conti che non tornano, a come asfaltare una strada, a come aggiustare un autoclave di una scuola, cioè problemi che prima si risolvevano con veramente una facilità estrema e che oggi invece sono davvero drammatici perché non ci sono risorse nelle casse comunali. Quindi un momento di libertà si ha proprio nei momenti delle campane elettorali. Vogliamo dare il massimo perché non ci piace nasconderci, altri avrebbero deciso di stare nascosti dietro le poltrone, seduti sulle poltrone. A me piace sempre sfogliarmi, togliermi le fasce tricolore e le fasce istituzionali e partecipare alla campagna elettorale con pari dignità rispetto a tutti gli altri cittadini che hanno diritto di esprimere le loro opinioni. Qualcuno vorrebbe che io non parlasse, che non facessi politica, che non partecipassi alle campagne elettorali. Mi va a dire che i cittadini vogliono invece il mio impegno, si vede in queste manifestazioni con tante persone che partecipano e questa volta sosteniamo in modo coerente Michele Emiliano. Lo voglio dire perché sto assistendo anche a qualche esternazione fuori luogo dove per giustificare posizioni trasformistiche a mio carico qualcuno dice che ero prima a Forza Italia, che sono passato da là, di qua. Ricordiamo che sono forse l'unico politico del territorio che dopo 15 anni milita sempre nell'Udc. Lo dico a chiare lettere perché per quanto mi riguarda ci sono due concetti di coerenza. Il rispetto dei patti elettorali, io non ho mai tradito nella mia città dopo dieci anni di sindaco, non ho mai abdicato, anzi sono stato tradito e mandato a casa, diciamo, con una famosa serata in un notaio bicegliese. E per quello che riguarda i patti programmatici li ho sempre mantenuti e come ho fatto recentemente, quando gli accordi programmatici e politici variano, non per colpa mia ma perché ci sono logiche nazionali, allora mi piace rimettere il mandato nelle mani della coalizione per decidere insieme a loro, ma non certamente trasformare una coalizione di destra in una coalizione di sinistra. Quindi questo significa coerenza, significa serietà rispetto agli elettori. Tutte le altre chiacchiere di questi giorni, con tanti Volta Gabbana che stanno cambiando da destra a sinistra, con tante persone che stanno a Roma in un modo e stanno in Puglia in un altro, con tante persone che stanno tradendo, queste persone oggi sono davvero lontane dal mio modo di fare politica. I cittadini che comprendono e capiscono che questa sera cominceremo a spiegare a tutti il percorso politico, stanno verificando come la scelta migliore per le nostre comunità oggi sia la certezza, la forza, l'autorevolezza di Michele Emiliano. Io devo pensare alle mie comunità, devo portare risorse alle città, i giochi e i teatrini della politica con fatti asfittici interni ai partiti non mi riguardano, non mi interessano, a me piace partecipare per vincere, per governare, per portare coerentemente con l'Udc, con le liste civiche, così come ho fatto nel 2013 a Bicelli, anche il grande risultato per l'elezione di Michele Emiliano a Presidente della Regione Puglia.